buongiorno e benvenuti da mondo mobiliare lecce oggi siamo a torre saracena vi presentiamo questo grazioso bilocale posto al primo piano siamo in questo bel villaggio che è posto a metà strada tra torre dell'orso e torre sant'andrea la casa ha una doppia esposizione si accede da questa grande veranda direttamente nella zona giorno sufficientemente ampia per poter accogliere i vostri ospiti da questa parte si sviluppa il cucinotto separato mentre di qua troviamo il bagno e la grande camera da letto gli ambienti sono molto luminosi grazie alla veranda retrostante che percorre tutto il lato dell'abitazione